Aveci di YouTube ben trovati da Marco Ligueri in questo video parliamo della dichiarazione shock fatta dalla famosissima cantante una cantante con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo dichiara di avere la leucemia e prima di saperne di più vi ricordo che con ora questo video dovesse superare i 400 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo dichiarazione shock da parte di Alsey cantante famoso in tutto il mondo che di recente tramite un video su instagram ha dichiarato di avere la leucemia sono fortunato ad essere viva questa è stata la dichiarazione shock di Alsey che ricordiamo ha soltanto 29 anni ma nonostante tutto ha decine di milioni di fan e moltissimi premi al suo attivo nonché oltre 12 milioni di iscritti sul suo canale youtube veniamo all'attualità cari amici di youtube diciamo che Alsey di recente ha dichiarato di affrontare una strenua battaglia contro la leucemia e la vediamo in una foto in cui si massaggia le gambe una foto con la didascalia che ha preoccupato i suoi tanti fan mi sento come una vecchia di 100 anni e vediamo il dolore la sofferenza dipinti sul volto di Alsey che ha anche dichiarato sono fortunata ad essere ancora viva la cantante ricordiamo 29enne ha ha anche detto che sta considerando l'idea di prendersi due anni di riposo dai concerti due anni per dedicarsi alle cure e a ristabilire il corpo e la mente il prima di marco liguori seguirà il percorso di Alsey intanto li auguriamo una pronta guarigione amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo dei marco liguori il canale dei video di cronaca seguitemi anche sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti